Un neolaureato qui con una laurea in ingegneria, una laurea STEM, prende circa 70.000 lordi all'anno. La media, eh, la media. Io prendo un po' di più. Lui è Andrea Fasulo, un ingegnere che da diversi anni vive in Danimarca e ha un canale YouTube su cui condivide esperienze e informazioni davvero interessanti sia sulla Danimarca che sul mondo dell'energia. Insomma, non potevamo farcelo sfuggire. Mettetevi comodi e preparatevi a prendere tantissimi appunti. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Maurizio e in questo canale parliamo di carriera, lavoro e finanza personale. E oggi ospite perfetto per il nostro obiettivo perché abbiamo con noi Andrea. Andrea adesso ci racconterà, ma fondamentalmente incarna tutto quello che è il percorso che moltissimi di voi vorrebbero fare, di cui parliamo spesso. Cioè una persona che si è laureata, è ingegnere e ha iniziato una carriera all'estero, in particolare in Danimarca. E tra l'altro Andrea ha anche un canale YouTube molto interessante. Metterò tutti quanti i link in descrizione, quindi trovate Andrea Fasulo. E ha fatto dei video molto, molto specifici. L'ultimo in particolare sugli stipendi vi piacerà perché sono esattamente le informazioni che andiamo a cercare. Lui l'ha fatto con il rigore e la metodologia tipica di un ingegnere. Per cui, Andrea, benvenuto e ti chiedo di presentarti, raccontare un attimo chi sei, cosa stai facendo e dove sei. Innanzitutto grazie a te Maurizio per avermi invitato. Fa sempre piacere ricevere inviti del genere, conosce nuove persone, conosce nuove community. Come hai detto bene, sono un ingegnere. Mi sono trasferito in Danimarca circa quasi tre anni fa per la magistrale. Quindi sono arrivato come universitario e poi ho deciso di restare come lavoratore perché mi sono trovato molto bene. Detto questo, adesso sono in azienda. Come hai detto, ho cominciato un percorso di carriera qui. Da studenti qui già si comincia ad lavorare in realtà, quindi poi c'è una progressione diversa rispetto a che è in Italia. Però sono molto soddisfatto di quello che adesso sono diventato, diciamo, e sulle prospettive che poi questo apre in futuro. Quindi sono super excited per cominciare la chiacchierata, per rispondere a un po' di domande. E poi chi vorrà dal pubblico contattarmi, seguirmi, sono sicuro che mi entrai tutto ciò a disposizione. Quindi andiamo alla grande. Benissimo. Guarda, hai subito aperto un argomento interessantissimo. Allora, tu quindi hai fatto la triennale in Italia, a Roma, giusto? Esatto. E la magistrale su. Dici subito come hai fatto, perché, qual è stato il percorso decisionale, come hai scelto la Danimarca rispetto alle altre opzioni? Perché questo non è stato un Erasmus, è stata proprio una scelta deliberata di fare la laurea lì. Tra l'altro è una cosa che consiglio spesso come esperienza all'estero. E poi, ovviamente, le differenze che hai visto. Hai già accennato qualcosa sul contatto con il mondo del lavoro molto interessante. Dici, dici. Allora, cominciamo dal principio, come sempre, in ordine cronologico. Io finisco la triennale a Roma, fatto ingegneria energetica. Ok. Sono partito nel 2017, credo. Mi sono laureato in meno di tre anni, quindi io a lui avevo già concluso tutto quanto. E nel processo in cui avevo fatto gli ultimi esami, avevo cominciato a scrivere la tesi, e con la mia ragazza, che anche lei è ingegnere, abbiamo pensato di trasferirci, poiché Roma non ci soddisfava né dal punto di vista di magistrale né dal punto di vista di possibilità di carriere future. Poi, non volendo rimanere nella nostra comfort zone, con le nostre famiglie a lungo, diciamo, vogliamo diventare indipendenti un po' più velocemente, fin da subito, abbiamo detto, va bene, consideriamo delle opzioni. Opzione 1, rimanere in Italia. Opzione 2, andare all'estero. L'opzione 1 si manifestava contro il tecnico di Torino e di Milano, che abbiamo preso in considerazione. L'opzione 2 sarebbe stata andare un po' più al nord Europa. Ora, c'è stato in realtà il grillo parlante in questa storia, nel senso che io ho un cugino che ha fatto carriera in Accenture, che ha lavorato un po' in tutto il mondo, diciamo, tramite questo lavoro, e lavorando in tutto il mondo è venuto da me e mi ha detto, Andrea, guarda, se devi considerare un paese all'estero che ha il focus su sustainability, sull'energia, che è, diciamo, il tuo ramo, e soprattutto in cui la cultura lavorativa non è eccessiva, non è tossica, o comunque in cui mi sono trovato bene per la mia personale esperienza, ti consiglio la Danimarca. E io allora, di ribattuta, io ho detto, ma perché magari non l'Olan, anche loro hanno delle buone università, eccetera, e lui mi fa, no, la Danimarca. Quindi mi sono cominciato a informare sulla Danimarca. Può sembrare stupido, però in realtà ho fatto anche io le mie ricerche, e da quel momento poi c'è stata l'opzione estero, che ha cominciato a formarsi in maniera più concreta, in maniera, sì, diciamo, a dare una visione di lungo termine, per diversi motivi. Il primo, principale tra tutti, è che in Danimarca gli studenti europei non pagano le tasse universitarie. L'università in cui io sono venuto costa circa 15.000 euro l'anno per studenti che provengono da paesi extraeuropei e fuori dall'Unione Europea. Per noi è completamente gratuita, non c'è nessunissima fee, nessun tipo di tassa e nessun tipo di costo aggiuntivo. Ora, la condizione è che si abbiano dei prerequisiti precisi. E quindi rispondendo più in merito alla domanda, questi requisiti sono la lingua inglese, sono un percorso triennale, o comunque un percorso di studio che soddisfi determinate aree tematiche, e sono due lettere di referenze da professori di triennale, o comunque dell'istituto da cui si proviene. Quindi, soddisfatti questi requisiti, in realtà l'accesso all'università è abbastanza smooth. Ovviamente per poterli soddisfare, però c'è bisogno anche lì di un percorso. Per me questo percorso è stato abbastanza accelerato, perché per l'inglese, per esempio, c'è bisogno di una certificazione, che io mi sono preso in un mese, sostanzialmente, prima di venire qui, dal mese di luglio al mese di agosto, ho cercato di fare tutto in fretta e furia e prendere questa, mi pare che fosse il B2 all'epoca richiesto, adesso forse è un po' più alto, e poi ovviamente di prendere queste lettere di referenze, che se si è andati bene a qualche esame, non si ha troppa difficoltà a farsi scrivere, o almeno a scrivere noi stessi e poi farle firmare, è quello che andiamo a cercare. C'è anche la possibilità in Danimarca di lavorare come studente, ed è diffusissima come cosa. Non solo è diffusa, ma è anche strutturalmente accettata e costruita dall'ambiente corporate, perché spesso in Italia ho degli amici che magari lavorano, che magari fanno questo, fanno quell'altro, fanno cosucce qui e lì. Qui c'è la possibilità di prendere dei contratti che sono part-time solo per studenti. Perché questo succede? Perché le aziende hanno questa condizione, loro pagano una parte dello stipendio dello studente e un'altra parte viene pagata dallo Stato. Quindi, se sei uno studente europeo che va in Danimarca, non solo non paga le tasse, ma se riesci a trovare un lavoro da studente, cosa estremamente diffusa, anche in aziende corporate, insomma, tutta una serie di realtà più strutturate, non solo le ripetizioni che faccio ad altri studenti. Sia la possibilità di avere lo stipendio che paga l'azienda, e sono ad esempio, non so, 20-25 euro l'ora, all'ora, più una parte di stipendio che proviene dallo Stato e che ai danesi cittadini è garantita indipendentemente dal lavoro part-time. Per i cittadini e per i studenti, invece, europei, c'è la condizione di avere un lavoro, quindi di lavorare almeno quelle 40-42 ore al mese. Queste sono state le condizioni che mi hanno fatto dire, va bene, provo ad applicare in Danimarca, il processo è andato tutto a buon fine e poi sono riuscito anche a trovare una struttura ospitante, ovviamente, altro step da considerare, poiché però le tasse non c'erano, c'era una prospettiva di crescita finanziaria già abbastanza precoce come studente. I miei genitori mi hanno aiutato, ovviamente, a sostenere i costi dell'affitto, i costi della vita, che però non erano così alti come mi aspettavo. Ecco, rispetto a Milano, mio padre è stato molto felice, in realtà, di dovermi supportare in Danimarca. No, questo, grazie, penso questa è una delle cose più importanti, il capire che all'estero il mondo universitario ha un'impostazione veramente diversa. Cioè io parlo spesso con persone e cerco di spiegare che in Italia abbiamo la logica del latriennale e una mezza laurea, che purtroppo è un handicap molto causato anche dal tipo di formazione che viene fatta, molto accademica e tutto. All'estero, esattamente come dicevi tu, l'università non è il prolungamento del liceo, ma è l'anticamera del mondo del lavoro. E quindi le nazioni meglio strutturate sono quelle che hanno tipicamente un'integrazione con il mondo del lavoro molto più funzionante, molto più organizzata. In Svizzera, anche avevo visto, ho passato otto anni in Svizzera e tantissimi triennale iniziano a lavorare, poi le aziende appunto hanno questi contratti che ti permettono di fare part-time, verticale, orizzontale per continuare a lavorare, anche perché magari dopo un anno che stai lavorando in azienda hai meglio messo a fuoco qual è il tipo di specialistica che vuoi fare e quindi inizia un percorso diverso. Quindi molto interessante. E una domanda, tu hai studiato ingegneria energetica, io sono ingegnere elettrotecnico con indirizzo energetico e negli anni 90 quando ho iniziato a lavorare io era proprio il lancio di tutta quanta liberalizzazione del mercato, efficienza energetica e tutto. Il tipo di lavoro che hai fatto era attinente a questo? Che tipologie di offerte hai considerato? Allora, dal mio punto di vista, quindi la mia storia personale è un po', diciamo, nelle code della distribuzione, perché io sono arrivato qui e poi c'è stato il Covid. Quindi, diciamo, era una situazione particolare. Io ho fatto tante application proprio perché le aziende in quel periodo avevano ridotto le assunzioni e sono riuscito comunque a trovare qualcosa. E quel qualcosa che ho trovato è un lavoro in un ufficio di M&A che faceva da intermediario tra i developers, quindi sviluppatori di impianti, di progetti fotovoltaici, eolici, batterie in giro per il mondo e le banche e i fondi pensione e gli investitori privati che volevano acquisirli e volevano comprare una parte della proprietà di questi impianti a qualsiasi step o stage di sviluppo. Quindi potrebbe essere un concept che viene sviluppato, può essere già connesso alla rete e via dicendo. Quindi, questo primo. Non sono stato in grado di trovare un lavoro che fittasse bene e che fosse esattamente nelle corde di quello che avevo studiato perché ho fatto comunque un lavoro di marketing e vendita, nonostante io sia riuscito a integrare quello che avevo studiato in ciò che proponevo negli articoli che pubblicavo e nella comunicazione che facevo con questi due tipi di stakeholders. Quindi, il mio ruolo è stato quello di andare a fornire all'azienda una vision e una comunicazione, degli elementi comunicativi con il pubblico che andassero in qualche modo a farci percepire come persone esperte di quello che stiamo facendo. Quindi, essendo un ingegnere e dall'altra parte essendo un passione di comunicazione, questo mi è riuscito abbastanza bene e non solo, sono stato anche in grado io di istruirmi e di educarmi tantissimo durante il mio lavoro in modo tale da acquisire conoscenze da un lato, rielaborarle io e poi facendole uscire dall'altro dando l'impressione che l'autorità di queste conoscenze fossimo noi. Cosa che era vera, cioè ero io che scriveva, che rielaborava i dati e che rielaborava le informazioni, però è stato sia un momento in cui mi sono adattato a delle tasche che non erano proprio quelle che un ingegnere è chiamato a fare, scrivere articoli, pubblicare newsletter, assistere alle vendite dei progetti con gli investitori e con gli asset owners, con i developers, dall'altra sono riuscito a comunque mandare un po' del nostro nerdismo ingegnere di alimentare, di alimentarlo tramite le ore di lavoro che facevo. Quindi comunque c'è stata un'adattabilità da parte mia nel lavoro stesso. Però sta di fatto che l'ambiente di lavoro era nell'ambito, cioè l'ambiente e il settore era nell'ambito energetico, mi ha dato la possibilità di svilupparmi anche un po' più lateralmente nel settore finanziario. Quindi adesso per esempio il lavoro che faccio non avrei potuto farlo se non avessi avuto la possibilità di sviluppare anche un mio accume finanziario, quindi project financing, tutta quella roba lì, M&A, le acquisizioni e le fusioni e via dicendo. Quindi diciamo è stata una sfortuna e una fortuna allo stesso tempo. No, molto interessante e penso sia un punto importante, cioè non stiamo parlando di vado a lavorare a McDonald's per mantenermi, cioè comunque lavori di un certo livello, insomma essere nel team Merging Acquisition in qualunque parte è un'esperienza a cui molti aspirerebbero anche dopo una laurea, per cui ottimo. Puoi dirci qualcosa su che tipo di lavoro fai oggi, la tua giornata tipo, perché per esempio uno degli aspetti che hai toccato di cui parliamo più spesso è che uno di quelli che triggera maggiormente noi ingegneri è generalista, specialista, no? Anch'io ho iniziato a lavorare all'interno dell'ufficio acquisti perché era il periodo della liberalizzazione del mercato dell'energia, quindi c'era bisogno di qualcuno che si occupasse, a quei tempi era soltanto il gas e lì però ho capito il valore dell'acquisire altro tipo di competenze oltre quelle puramente tecniche che è la cosa che mi ha permesso di avere la carriera che ho avuto di cui sono molto soddisfatto. Quindi anche tu il project financing a poco dalla laurea è qualcosa di importante, no? Come competenze. Quindi tu oggi di cosa ti occupi? Qual è la tua giornata tipo? Il tipo di challenge che ti affronti quotidianamente? È una bellissima domanda soprattutto quella delle challenges che cerco di dare una risposta sintetica ma puntuale. Allora, facciamo così, dodo anche magari gli orari così magari riesco a comunicare bene qual è il tipo di responsabilità di focus che si ha però anche il tipo di well-being e di flessibilità che si ha nel lavoro. Io mi sveglio alle 7 e 20. Non sono uno di quelli che si sveglia alle 6 e alle 5 e mezza e alle 7 e 20. Io la sveglia avrò impostata così. Prima dalle 9 sono in ufficio. Inizio la giornata lavorativa. Ovviamente io avevo colleghi qualcuno tipo la manager tipo magari qualcuno di più senior è in ufficio prima di me. Qualche giorno qualche altro giorno invece no, sono io il primo come oggi per esempio. C'è chi lavorava da casa, chi stava in un evento formativo. Alle 9 diciamo siamo tutti 9 e 10 siamo tutti lì del mio team. Si comincia a lavorare e nel lavoro ci sono principalmente meetings e lavoro individuale. Alle 12 c'è il pranzo quindi adesso faccio gli orari poi magari vado più dentro alle mansioni vere e proprie. Alle 12 ovviamente il pranzo danese in Italia se si mangia alle 12 c'è qualcosa che non va. Io mangio alle 12 dopo 8 anni in Svizzera ho mantenuto quello. Anche a me adesso viene fame alle 12 devo essere sincero. Quindi 30 minuti 50 minuti di pranzo dipendentemente da o il meeting alle 12 e mezza o il meeting alle 13 o alle 13 e mezza quindi c'è un po' di flessibilità anche il venerdì diciamo c'è un po' più flessibili generalmente con l'intensità del lavoro. Poi si affronta di nuovo meeting e lavoro individuale e io credo oggi ho staccato alle 15 e 30. Di norma stacco intorno alle 4. Il venerdì c'è gente che se ne va intorno alle 2 e mezza. pressoché. Quindi torno a casa ovviamente faccio le mie robe private o lavoro al canale YouTube o sto con la mia ragazza oppure andiamo a fare passeggiata in centro giochiamo a beach volley comunque sono abito in un campus particolare e poi nel weekend ovviamente si fa si ha più ampio respiro quindi c'è possibilità di andare in spiaggia di fare tranquillamente nessuno chiede nessun tipo di mansione fuori dall'oro di lavoro o nel weekend. Se mi arriva una mail fuori dall'oro di lavoro c'è sempre un piccolo asterisco con mando le mail fuori dall'oro di lavoro non mi aspetto risposte fuori dall'oro di lavoro. Quindi fa piacere fa piacere mi si potrebbe criticare che Andrea sei giovane esci dall'ufficio alle 4 quanto credi di stare imparando in quelle 3-4 ore che sei a casa piuttosto che in ufficio magari dalle 4 fino alle 7 le 4 fino alle 6 e qui magari mi addentro di più rispetto a quello che faccio secondo e parlavo anche con amici colleghi che comunque studiano lavorano qui secondo me la responsabilità e il livello di fiducia e di crescita individuale che si ha a disposizione in alcuni lavori in Danimarca è maggiore rispetto a quello che sento dire dall'Italia e qui sottolino il sento dire perché io non ho mai lavorato in Italia quindi sono una persona che riporta informazioni di seconda mano io di cosa mi occupo adesso sono nel più grande sviluppatore di impianti olici offshore del mondo ed è un'azienda danese prima si occupava solamente di oil and gas poi credo intorno al 2012 2013 hanno deciso di reinventarsi completamente e tutto il loro revenue che veniva dall'oil and gas è sparito e si è manifestato nell'offshore in onshore di misura minore e solare ok quindi personalmente faccio questo mi occupo di sviluppare business cases quindi faccio sostanzialmente delle decisioni e delle ottimizzazioni di quanto sia conveniente avere un assetto logistico per operare questi impianti eolici offshore in diversi mercati e in progetti molto disparati quindi ci può essere progetto in Norvegia progetto in in Corea progetto negli Stati Uniti progetto a Taiwan e via dicendo ora sono io stesso che vado con l'aiuto del team con tutto il supporto del mio buddy e della manager e delle persone più senior a identificare tutti gli scenari e le ottimizzazioni logistiche di quello che vado a fare che poi viene calcolato nel budget operativo dal team di finance quindi io ho la piena libertà di suggerire se rispetto ai requisiti che il mio dipartimento ha un impianto logistico rispetto che un altro quindi a comprare o a affittare per esempio un certo tipo di imbarcazione per portare i tecnici vicino la palla eolica per poterla aggiustare quando si rompe rispetto che un altro tipo di imbarcazione oppure utilizzare l'imbarcazione per un progetto già esistente quindi dividerla con un progetto esistente facendo così scendere i costi e aumentare la probabilità che si vinca la possibilità di costruire l'impianto ora non vorrei andare troppo nei dettagli tecnici perché probabilmente non diciamo il pubblico sarebbe un po' generalista per poter tutto seguire il ragionamento però semmai potremmo organizzare qualche altra line in caso quindi questo mi ha colpito molto e mi ha colpito anche quello che mi dicono i miei coetanei cioè anche persone che fanno internship hanno responsabilità c'è una responsabilizzazione del nuovo arrivato che è abbastanza precoce questa è l'idea che mi sono fatto quindi in quelle poche ore in cui tu lavori uno non c'è quasi nessuna perdita di tempo due le deadline e le aspettative che si hanno sul nuovo arrivato sono molto labili e flessibili nel primo periodo ma c'è un onboarding molto molto accelerato e secondo me questo avviene perché c'è una buona selezione all'inizio soprattutto in queste aziende grandi ci sono processi di selezione estremamente provanti o comunque come dire si deve affrontare molti si devono affrontare molti step quindi secondo me la selezione che viene fatta all'inizio è fondante per poter poi garantire un candidato all'interno di un team che sia in grado di digerire le informazioni e di prendere mano e prendere responsabilità all'interno delle tasche e dei progetti in maniera più veloce almeno questa è l'idea che mi son fatto quindi alla persona che mi dice cosa è che impari in meno in quelle due ore che magari vai a casa rispetto a stare in ufficio dalle 4 alle 6 io rispondo le ore che sono in ufficio ho delle responsabilità che magari una persona che lavora in Italia mi dice che non si sogna neanche è evidenziato una parte che secondo me è molto importante il lato business di quello che facciamo io parlo spesso del fatto che ci sono vari punti di ingresso nelle aziende e purtroppo spesso noi abbiamo la concezione di una corrispondenza uno a uno titolo di studio io lavoro no mi sono laureato in ingegneria cerco posizioni da ingegnere no invece le mie competenze possono essere applicate in tantissimi settori e siccome alla fine tutte le aziende producono la stessa cosa cioè denaro per gli azionisti o per i proprietari e prima si arriva al significato lato business finanziario di quello che facciamo e prima si accresce di responsabilità quindi se ho capito bene tu ti occupi della parte di bidding perché stai parlando di costi per l'acquisizione di commesse e tutte cioè uno può pensare io come ingegnere là mi devo occupare del dimensionamento del posizionamento del sì quello è uno degli aspetti ma la competenza del devo fare un'offerta per essere più competitivo ma non tanto da perderci soldi per questi parametri mettere rispondere alla request for information request for quotation dal fornitore cioè dal cliente quella è una skill più spendibile perché chi fa dimensionamento del della paleolica potrà farlo da qualche altra parte chi fa offerte finanziarie cioè domani potrei farlo per servizi per manutenzione per building per qualunque altra cosa perché entri nell'ottica appunto del capire quali sono le componenti cost control estimation e via dicendo ed è molto molto interessante quindi poi sulla parte orari guarda Andrea è toccato come puoi immaginare un nervo scoperto qui in Italia proprio in una delle ultime live c'era un commento di uno della community sul fatto che in Italia stanno tutti quanti fino a tardi si aspettano che lavori nel weekend e una delle cose che più trovo odiose e anche io avendo lavorato all'estero l'ho riscontrato solo in Italia quando magari vai via alle 5 6 il pomeriggio c'è sempre l'idiota che ti deve fare la battuta beh oggi mezza giornata ma ti suggerisco in quel caso di comprare un libricino da 5-10 euro sul time management e regalarglielo perché è veramente lo scollamento tra la resa il risultato e il tempo passato in ufficio soltanto a farsi vedere perché devi uscire un minuto dopo il capo il minuto dopo è una follia per cui mi fa piacere che dai una conferma di questa parte volevo chiederti quanto è internazionale il team o il contesto all'interno del quale lavori perché immagino che quando parlavi di selezione ovviamente uno dei messaggi che do anche chi vuole andare all'estero devono anche capire che il livello di competizione per le nazioni che offrono vari aspetti positivi ovviamente si alza esponenzialmente com'è la situazione nella tua azienda o quello che hai visto in giro in Danimarca allora ottima domanda anche questa devo dire è un tema che mi sta molto a cuore questo della diversi dell'ambiente internazionale motivo che ha influenzato la mia scelta di andare in Danimarca allora facciamo così ti racconto di un processo di selezione che ho avuto a Bestas che è il più grande manifattore di paleoliche che sta qui con sede in Danimarca avevo fatto la selezione per questo graduate program che è un programma accelerato in cui tu stai due anni in azienda fai tre rotazioni una in un paese ognuna in un paese diverso e poi alla fine o diciamo prendi un ruolo un po' più manageriale in maniera precoce oppure ti trovi una posizione tu in base a quello che vuoi fare comunque l'azienda investe su di te fai tutti questi giri acquisisci conoscenze abbastanza laterali e quindi hai un incentivo in più a essere trattenuto all'interno dell'azienda siamo stati ad applicare 14.000 persone siamo passati alla fase finale quindi dopo tutti il screening interview in remoto più le interview sempre in remoto con il selezionatore più un test di intelligenza diversi test di personalità 35 persone sono arrivate alla fase finale che si è svolta non nel quartiere generale ma nel quartiere generale di copenhagen quindi in questo grattacero super figo e in questa giornata che comprendeva la sera precedente con una bella cena tutta pagata l'hotel ovviamente tutto spesato io ho incontrato penso 15 nazionalità diverse gente venuta dal Brasile gente venuta dal Texas gente venuta da tutta l'Europa praticamente ovviamente non c'era la parte APAC perché lì c'era un gradore program proprio in APAC in cui le persone che erano nell'est del mondo si sarebbero si sarebbero riunite però per farti capire c'è oddamente a me persone venivano dal Brasile dal Texas da Washington e io mi trovavo a Copenaghen ero l'unico italiano in quell'occasione però per far capire che il mondo è grande e c'è la possibilità di creare questi ambienti internazionali gente venuta dalla Nigeria che danno valore a ciò che si sta facendo un esempio potrei fartelo quando sono andato a Barsavia per un viaggio di lavoro e nella nostra azienda il team che era lì eravamo io quindi italiano danesi cinesi greco spagnolo e geno dette 6 dall'altra parte stiamo collaborando in un progetto il progetto più grande del mar baltico sempre offshore c'era un'azienda polacca che aveva polacchi 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 per fare un esempio quindi l'ambiente danese a Copenaghen soprattutto è estremamente internazionale ma anche se va in giro per la strada tipicamente incontri gente di nazionalità diversa quindi non è solo l'università non è solo l'ambiente in cui sono io è un po' diciamo trasversale la cosa è una società molto aperta e il motivo per cui lo è è che commercia tanto con paesi anglofoni e soprattutto per questa ragione anche tutti i danesi parlano l'inglese a livello molto alto quindi nonostante loro abbiano la loro lingua che è il danese non c'è nessun problema nell'andare il supermercato o nel farsi fare la pulizia a casa e parlare in inglese a qualsiasi step sociale diciamo in qualsiasi livello sociale livello sociale va bene però facciamo a capirci diciamo così quindi io sono molto soddisfatto di questo e anche nel mio team per esempio oggi stesso mi sono presentato con un nuovo collega che comincia a metà luglio che viene da Taiwan ci sono io c'è un ragazzo metà romeno metà danese c'è una ragazza che è californiana solamente nel mio team e questo è valore nel mio nella mia mente nel mio processo di crescita a lungo termine avere scambi con queste culture è sicuramente qualcosa che restare in Italia di cui mi sarei privato ecco e questo secondo me era inaccettabile nel percorso che volevo fare perfetto e tra l'altro hai evidenziato una cosa ho accennato competizione hai parlato di 14.000 candidati cioè tipo un posto da vigile urbano a Roma ci arrivano questi numeri di candidati nel concorso sì quello era un po' estremo c'è da dire no però però è da un chiaro messaggio e considerate che immagino ognuno di questi 14.000 candidati fosse perfettamente bilingue a livello professionale in inglese questo è un messaggio che io do sempre solo in Italia conoscere l'inglese è visto come un asset competitivo nelle nazioni che si posizionano meglio a livello di offerta per la carriera cioè conoscere l'inglese è come conoscere le tabelline quello è il tipo di no l'asticella il famoso cioè l'inglese scolastico non va bene cioè non esiste come soglia d'ingresso per determinate opportunità di vita e di lavoro quindi molto grazie per per questa conferma e ovviamente abbiamo visto la differenza per quanto riguarda la parte università come è stata impostata la parte mindset al lavoro perché io sospetto che come nella mia esperienza in Inghilterra e anche all'estero non è che tu vai via alle 4 e gli altri vanno via alle 7 immagino che ci sia un range di mezz'ora in cui vanno via tutti quanti senza sensi di colpa o senza esatto cioè vanno tutti via dicevo a Bristol quando ero in Orange quando c'era il pullman alle 4 e mezza 5 che era il pullman aziendale tutti dal megacapo all'ultimo arrivato si andava e si prende il pullman e si tornava a casa fondamentale c'è da dire Maurizio se posso aggiungere che ci sono anche realtà in cui si lavora molto anche in Danimarca tuttavia le persone che lavorano 60 65 ore a settimana hanno quasi il doppio il mio stipendio già al cioè al livello da neolaureato quindi il mio stipendio non è un stipendio basso non è un stipendio totalmente nella media danese infatti su questo voglio farti una domanda perché come accennavo tu hai fatto un video molto interessante a cui rimanderò nei link e ci puoi parlare un attimo perché una delle grandi paure o a mio avviso una delle dei preconcetti è all'estero guadagni di più ma spendi di più e quindi vai pare patta nella mia esperienza neanche lontanamente cioè ci sono posti dove spendi il doppio guadagni il triplo equazione fatta cioè ogni anno ti metti da parte l'equivalente di uno stipendio come minimo la situazione in Danimarca io ho visto il tuo video e ho detto cavolo notevole puoi dare qualche riferimento qualche numero mi è venuto questo video in mente perché per l'ennesima volta ho avuto la conferma che in Italia c'è il mito del se guadagni tanto è perché ti costa tanto l'affitto ti costa tanto la spesa ti costa tanti trasporti cosa che a cui io non ho mai creduto devo dire e mi è venuto in mente che magari questa sia da una parte un semplice ma a cui c'è un rimedio ignoranza dall'altra un modo per raccontarsela che è meglio il divano di mamma esatto esattamente quindi ho fatto questo video mi sono un attimo guardato dentro il portafoglio e ho detto ah ok portiamo questi numeri facciamo così c'è una distribuzione quindi non è che il mio caso la mia esperienza l'esperienza di chiunque singolarmente ha un valore statistico diciamo se prendiamo un gruppo di persone casuale che è nella mia stessa situazione o lo prendiamo in Italia specificamente io ho preso come riferimento Milano perché è ovvio che se mi prendete come esempio una città tipo non lo so Bergamo o anche per farla ancora di più Napoli ha dei costi che non sono come quelli di Milano altrettanto Copenaghen non ha i costi di un'altra città danese come può essere Holborg come può essere Orus che hanno costi più bassi però io vivendo più o meno a Copenaghen ho detto vabbè prendiamo i costi di Milano la capitale non solo in termini economici ma anche in termini di interscambio culturale giro di persone e via dicendo sta di fatto che prendendo le medie degli stipendi e con Milano sono stato molto generoso in termini di costi in termini di stipendi mi hanno detto le persone in Danimarca ti metti in tasca quello che ti metti in tasca a fine anno calcolando una spesa media da studente o comunque neolaureato dalle due volte e mezza alle tre volte tanto rispetto a quello che ti metti in tasca in Italia ho avuto per esempio qui un ragazzo che ha cominciato a fare il dottorato nell'università dove io ho fatto la magistrale che mi ha detto che lavorava in Pirelli e che si era messo da parte un bel gruzzoletto lavorando per un non so 18 mesi in azienda e ho fatto ah cacchio magari fammi sentire magari nel video ho detto qualcosa di sconclusionato e invece ho scoperto che nel video sono stato anche molto generoso c'è da dire questo poi ovviamente ognuno ha dei livelli di elasticità allo stile di vita diversi se a me che ne so mangiare la pizza costa tre volte tanto a Copenaghen io non mi mangio tre pizze a settimana ne diminuisco a una pizza a settimana chi ha la passione della pizza e vuole mangiare solo pizza e è molto inelastico ad adeguare il proprio atteggiamento al consumo in una situazione in cui i prezzi variano ovviamente potrebbe ritrovarsi con delle spese maggiori però fa parte anche questo delle proprie strategie individuali ci sono altre cose altri alimenti buoni che costano di meno ma che sono magari più incentivati all'acquisto in Danimarca per tutta una serie di motivi quindi anche qui c'è una dimensione individuale nell'approccio al risparmio che non può non può mancare nessun tipo di panorama di contesto internazionale però allo stesso tempo cerchiamo di guardare i numeri cerchiamo di guardare magari statistiche affidabili come gli indici di living cost cost of living across country across geography quindi si ha un'idea una stima della percentuale di premium di incremento del costo della vita in un determinato paese piuttosto che un altro e si prende una decisione rispetto anche a quello non solamente in base al io sono andato a Copenhagen a fare il turista o per pagare una bottiglia d'acqua 3 euro io non pago una bottiglia d'acqua 3 euro esatto paghi lo stesso se vai a prenderla ai fori imperiali a Roma esatto il meccanismo è quello senti e quindi abbiamo visto lato stipendi sicuramente se penso che un neolaureato in Italia cerca di arrivare al al sogno dei 23 25 mila euro di stipendio lordi ho visto i numeri poi appunto rimando al tuo sito sono completamente su un'altra scala e invece il costo della vita io per esempio in Svizzera avevo notato che io ero a Basilea allora l'unica cosa che veramente era un problema era come accennavi tu il mangiare fuori cioè la colazione se vuoi andare fuori a fare cornetto e cappuccino so 10 euro rassegnati se vuoi mangiarti la pizza fuori sono 50 euro rassegnati invece tutto il resto ha una possibilità di modulazione nello specifico perché Basilea è vicino al confine di Francia e Germania quindi fai la spesa e ti costa meno che a Roma l'affitto se fai attenzione non è una follia a meno che non sei così pollo che devi stare in pieno centro con la casa e vabbè allora pure qua se vai a campo dei fiori devi pagare quello che devi pagare è lo stesso peggio ancora a Milano però tutte le spese bene o male avevano la possibilità di essere ottimizzate con un po' di esperienza e di passaparola tranne decisamente quello del del mangiare fuori e come dicevi tu con un minimo di elasticità ci si adegua mangia a casa e poi si esce soltanto a fare la birra la chiacchiera o quello che è e lì quali sono le parti critiche in Danilo tu dove sei esattamente ora e cosa vedi come parti veramente critiche oltre il mangiare fuori allora come parti critiche innanzitutto io non mi trovo al centro di Copenaghen per scelta mia non gradisco moltissimo lo stare in centro città forse perché sono traumatizzato dal centro di Roma può darsi può darsi mi trovo in una vicino a una cittadina che si chiama Kongenslingby che è dove c'era il campus universitario tuttavia c'è da dire che Copenaghen essendo molto piccola io ho il treno a due passi da dove abito ed è un trenino direi quasi regionale ok quindi io praticamente in 25 minuti sono al centro di Copenaghen senza nessun tipo di problema e ovviamente i treni qui arrivano in orario come si dice spesso quindi le criticità sono condivido quello che tu hai detto per Basilea il mangiare fuori qui al ristorante è molto costoso quindi sì anche qui sulla cinquantina di euro si mettono in conto se stiamo in un ristorante con la R maiuscola se stiamo a mangiare una pizza devo dire è meno tragica di quello che mi aspettavo noi spesso la ordiniamo abbiamo trovato questo compromesso paghiamo una margherita intorno ai 13-14 euro però la compriamo nel posto italiano dove la differenza con quella italiana non si sente tanto quindi siamo anche molto soddisfatti di quello poi dipende dipende moltissimo qui c'è una cultura culinaria molto diversa dall'Italia molto più internazionale quindi ci sono magari posti dove fanno hamburger a prezzi anche scontati ma che sono di alta qualità oppure si può andare magari a mangiare un sushi sofisticato quindi lì la 60 euro parte la 70 euro cioè col vino poi lasciamo perdere quindi tipicamente anche lì se sei un ragazzo e vai a mangiare il ramen con gli amici 20 euro e stai a posto se porti la ragazza a cena fuori a mangiare al ristorante italiano di alto livello beh la 100 euro di minaccia esatto eh sì quello sì quindi condivido questo se posso non ho detto le cifre degli stipendi perché spesso diciamo mi faccio un po' di scrupolo dato che ogni tanto vedo no no vai non avere scrupoli vai perché serve anche per svegliare le persone allora vado per svegliare allora mi rivolgo vai tranquillo apprezzano nella community apprezzano meno male guarda mi sento a casa allora un neolaureato qui con una laurea in ingegneria una laurea STEM prende circa 70.000 lordi all'anno anche la media la media io prendo un po' di più con la pensione che comunque è un top of debt le tasse sono più o meno al 37% io le pago 37 c'è chi sta al centro di Copenhagen e parga al 36,5 comunque più o meno per questi livelli complessivamente il 37 36,5 di tasse quindi fate voi i conti fate voi i conti non li voglio parire ho sette settimane di vacanza all'anno ovviamente lavoro da casa quando mi va tecnicamente vado in ufficio perché mi piace però se sto un po' male o se magari un giorno voglio prendere da casa manager posso lavorare da casa ma certo ma perché mi hai chiamato basta e questo è il quanto queste sono le cifre credo che siano dati da considerare perché stiamo parlando di 25 contro 70 75 4 settimane di ferie contro 7 che fai mezza giornata contro vado via alle 4-5 regolarmente cioè la gente è importante che si inizi a comprendere che esiste un mondo al di fuori che ha degli standard molto più alti e come per esempio per le tasse o tanti fattori quando uno dice ah ma quello è un paradiso no è che purtroppo su certe cose l'Italia è un inferno cioè lo standard al di fuori è molto più prossimo a quello che al dover combattere dover dare il 50% di tasse dover litigare su quello e avere 4 settimane il contratto di un certo tipo per quello io continuo a dire che soprattutto per chi vuole fare una carriera di un certo tipo l'esperienza all'estero è assolutamente fondamentale ovvio non dimentichiamo che questo viene a valle di una selezione da 14.000 a non so quanto erano alla fine poi 35 finalisti ma non so erano 17 posti alla fine ok cioè non è uno su mille ce la fa siamo là stiamo parlando di quei numeri esattamente questo è importante senti voglio chiederti una cosa perché mi hai incuriosito allora chiaramente tu hai un taglio che non è quello tipico dell'ingegnere e mi riferisco al fatto che sai comunicare ok che non è non è per niente banale e colleghi ingegneri è inutile che ce la raccontiamo noi siamo pessimi nella comunicazione una domanda che io faccio sempre a chi ha una carriera strutturata o l'idea abbastanza chiare è quali sono le skill che ti stanno aiutando di più e che non ti saresti aspettato per esempio nel mio caso è stato proprio la comunicazione cioè il capire che non serve saper dimensionare e fare il calcolo ma il coinvolgere comunicare tradurre argomenti tecnici per esempio in business per gli stakeholder per me quella è stata la cosa che nessuno mi aveva mai spiegato l'importanza di un public speaking o roba simile all'università lato tuo dimmi dimmi allora che diciamo che quelle che non mi sarei aspettato sono di meno rispetto a quelle che mi sarei aspettato però per esempio in termini di visibilità mi sono accorto che essere visibili in tutti gli ambienti in cui ci si trova può dare effettivamente un margine di ricompensa molto maggiore e quindi questo si trasforma in essere capace a comunicare essere capaci a vendersi sapevo che vendersi era un qualcosa di importante nel mondo professionale nel mondo diciamo del business però non pensavo così tanto cioè io ho avuto la capacità di cominciare a guadagnare belle cifre anche quando ero ancora in università perché avevo capito come potermi vendere in qualche maniera quindi non solo nel post per accedere al posto di lavoro ma anche una volta che si ha il posto di lavoro continuare a cercare visibilità non in maniera sfrenata non in maniera sfacciata al massimo però contribui aiutarsi ad essere diciamo aiutati che Dio ti aiuta diciamola così ecco quindi questo perché a me piace avere qualche sfida a me piace raggiungere degli obiettivi ne trovo e ne trago un piacere immenso quindi per me avere un continuo step e margine di miglioramento su qualcosa che non so fare bene è molto eccitante ed è qualcosa che non mi annoia il motivo per cui sono qui con Maurizio stiamo facendo questo video che questo non mi annoia e in più un'altra skill che diciamo non pensavo mi avrebbe aiutato però non tanto è saper riconoscere una fonte attendibile in tutti i sensi cioè investigare quanto più ci si riesce le basi e le origini delle informazioni che si vanno a utilizzare per effettuare delle decisioni io ho avuto la fortuna di avere il grillo parlante mio cugino che mi ha detto Andrea Danimarca Danimarca mi sono informato di più sulla Danimarca io mi fidavo molto mio cugino perché so il mio cugino che tipo di persona è ora per chi magari ha più difficoltà a selezionare bene le fonti di informazione che può essere o il telegiornale o il newspaper che si legge o il tipo di pagine social che si seguono ma anche le persone con cui si parla anche le persone a cui si chiede consiglio anche le persone a cui si chiede un parere per me la strategia da adottare su queste conversazioni è determinante per tutto il lungo termine e mi sta aiutando tantissimo sta continuando ad aiutarmi non vi fate un'altra cosa sempre connessa a questa siate sfacciati nel cercare di farvi aiutare se volete parlare con x persona perché avete visto avete sentito che quello ha fatto quel percorso che si occupa di quella cosa lì scrivetegli cercate di contattarlo le persone la maggior parte delle persone almeno nella mia esperienza sono ben felici di darvi una mano se possono e questo lo risulta immagino come punto di partenza di linkedin ma anche tipicamente professori che magari dicono quella cosa a lezione dico cacchio quella mi interessa a chi potrei chiedere fare una carriera in quell'ambito o cavolo c'è questo programma di selezione di mentorship in università vado vedo che mi danno un mentor il mentor magari lui stesso mi dice guarda guardandoti potrei farti parlare con questa persona che ne pensi l'essere sfacciati nelle occasioni in cui è buono essere sfacciati ripaga tantissimo almeno secondo la mia esperienza quindi questa è un'altra skill che mi che mi ha aiutato e mi ha aiuterato tantissimo che non mi sarei aspettato così tanto perché secondo me in Italia o almeno io avevo una concessione lineare del mondo in realtà non solo della carriera del mondo ma questa concessione lineare è totalmente sbagliata si ritrova in posti in cui non si aveva pianificato di trovarsi e questo è molto eccitante a parer mio quindi se posso dare un consiglio vendersi bene cercare di essere visibili e di comunicare bene se si ha piacere a farsi vedere a comunicare a raggiungere obiettivi che possono essere raggiunti tramite questo e poi selezionare bene le fonti essere maniacali e paranoici con con questo altrettanto no questo è un punto fondamentale Andrea e tra l'altro all'origine di quello che stiamo facendo entrambi immagino io sono molto più anziano di te io ho quasi 52 anni il principio è io adesso sto cercando di essere la persona con cui avrei voluto parlare all'inizio e durante la mia carriera lo stesso stai facendo tu perché il tuo canale è pieno di contenuti in questa direzione e quindi fate riferimento a chi esattamente sta facendo o ha fatto un percorso simile al vostro cioè quello che non ha mai visto un'azienda e vi dice come si fa carriera in azienda come approcciare le aziende chiaramente no l'attendibilità delle fonti quello è un punto fondamentale estero stessa identica cosa anch'io per esempio avevo quando consideravo la mappa dei luoghi dove andare per me c'era un buco nel centro dell'Europa non avevo mai considerato la Svizzera perché la Svizzera è noiosa vivono soltanto di banche cioccolate cioè niente di più falso quando vai sui dati però chiaramente è molto più facile prendere pacchetti preconfezionati di idee e tutto questo è un punto fondamentale e una domanda Andrea hai un'idea qual è la tua strategia hai i progetti quindi tu sei in Danimarca la tua compagna è anche un ingegnere a cosa stai puntando rimanere lì spostarti settori hai un'idea di quali potrebbero essere i prossimi passaggi questa è un'ottima domanda perché è diciamo il topic di discussione tra me e uno dei miei mentor attualmente temevo tra me e la mia compagna che sarebbe più pericoloso no sì no la mia compagna in realtà cioè siamo abbastanza allineati sono persone razionali che hanno voglia di qualche modo di esplorare di vivere la vita di capire com'è il mondo quindi da questo punto di vista siamo abbastanza allineati ecco questa è una domanda da dieci anni quindi non c'è assolutamente insomma ci capiamo allora posso dirti ciò su cui sto ragionando attualmente non ho ancora preso una decisione e penso che prenda una decisione adesso molto forte sia anche abbastanza scelerato in qualche maniera però sto preparando delle condizioni ecco sì la vorrei dire così preparo delle condizioni attualmente che mi possano permettere di tenermi le scelte ampie quindi maggiormente la mia esperienza più la mia esperienza matura e maggiore cerco di tenere il ventaglio di opzioni aperte per ora che sono giovane per ora che posso permettermi di prendere questo rischio almeno e quindi in qualche modo faccio questa esperienza che non so quanto durerà in questa azienda corporate multinazionale con l'ufficio a Copenhagen a un certo punto arriverà il momento in cui saturerò la learning curve e mi guarderò intorno e già mi hanno detto in azienda Andrea guarda non ti preoccupare siamo aware siamo consapevoli che questo succederà se tu ritieni che il tuo sviluppo professionale vada in altre direzioni faccelo sapere e noi tentiamo di aiutarti come possiamo facendoli fare sviluppi interni insomma mettendoli in contatto con team che fanno cose diverse dalla nostra anche solamente il collaborare con così tanti team e stakeholder cioè collaboro con finance collaboro con manager che non sono i miei collaboro con aziende che non sono le mie in joint ventures collaboro veramente con tantissimi stakeholders interno in azienda mi dà un respiro sulle possibilità che posso aprirmi in futuro che mi piace che voglio continuare ad investigare poi Danimarca non Danimarca anche questo da capire c'è da dire che i manager stessi almeno dalla mia esperienza da quello che sento dirmi dei miei colleghi dei miei coetanei incentivano a muoversi cioè dicono sì tu stai in Danimarca adesso ma vatti a fare l'esperienza in Svizzera vatti a fare l'esperienza a Londra vatti a fare l'esperienza negli Stati Uniti vatti a fare l'esperienza in Australia poi se ti piace la Danimarca torni in Danimarca quindi c'è una mentalità che mi piace una mentalità di cerca di esplorare cerca di non fermarti ai 7 settimane di vacanza all'anno 70.000 lordi all'anno e esci alle 4 dall'ufficio potendo fare effettivamente quello che vuoi vedi cerca di cerca di insomma a crescerti come persona in qualche maniera non cercare il posto fisso questo è quello che tento di trasmettere e anche dal punto di vista dell'ambiente lavorativo adesso sto lavorando nel bid nel fare insomma questi application per vincere le gare d'appalto dei paesi che vogliono sviluppare impianti all'ish offshore ma per esempio lunedì ho avuto una chiamata con una ex una collega che stava nell'azienda che adesso sta a Goldman Sachs a Londra perché voglio capire anche lì come funziona che cosa c'è qual è l'altra dell'altro posto che dà il finanziamento che cosa accade ho avuto chiamate con tante persone che sono state tutte molto disponibili nel condividere con me che cosa facevano e questo può semplicemente aprirvi gli occhi io vabbè sono un po' affascinato dall'ambiente finanziario penso si sia capito penso si sia capito sono molto affascinato da quello e devo dire ho tantissimi aiuti in merito quindi nel momento in cui volessi lasciare questa azienda e cercare qualcos'altro tutte le condizioni che ho preparato che sto preparando adesso spero mi possano dare una mano e che magari un giorno la ragazza con cui ho parlato che sta a Goldman Sachs mi possa dire guarda Andrea lascio il mio posto c'è un posto libero magari applica che ne sai hai toccato un punto fondamentale il discorso del development plan nelle grandi aziende è esattamente questo è una delle cose che io cerco di trasmettere ogni tanto mi è capitato durante le consulenze persone che mi dicevano ah vabbè ma io valgo devono notare il mio lavoro no occhio perché magari non tutti sanno che vuoi fare un'esperienza in un'altra divisione vuoi spostarti sei incuriosito allora quando hai la possibilità di lavorare in una grandissima azienda già l'azienda stessa ti permette magari di cambiare nazione divisione progetto fare rotazioni di un certo tipo però certe aspirazioni devono essere condivise cioè a me è capitato personalmente anche recentemente che in un cambio di capo in un mancato aggiornamento di alcune schede non era chiaro che io ho finita una parentesi di esperienza da una parte avrei voluto spostarmi da un'altra parte e il capo ma non lo sapevo allora sì ci attiviamo subito perché appunto bisogna come dicevi tu rendere visibile quelle che sono le nostre aspirazioni le nostre competenze e poi il bello è quello contesto internazionale azienda grande significa network esponenzialmente più strutturato e più diffuso appunto Goldman Sachs a Londra parliamole cioè bello avere una persona con cui parlare all'interno questo è molto molto interessante ti ringrazio senti io credo che siano veramente argomenti molto sul pezzo e sospetto che ci saranno una serie di domande per cui sarebbe molto piacevole avere un probabilmente un follow up oppure una volta ci facciamo una diretta sul tuo sul mio canale per rispondere a un po' di domande perché credo che abbiamo toccato una serie di punti che non valgono soltanto appunto per chi è nel settore ingegneria ma in generale per chiunque si è interessato a una carriera di un certo livello con certe prospettive o certi aspetti di ambizione se vogliamo puoi riassumere un attimo dove trovarti quali sono i progetti che stai portando avanti e quindi come contattarti eventualmente certamente grazie Maurizio a te di avermi ospitato mi sono divertito un sacco e anche grazie delle domande stimolanti devo dire veramente piacevoli allora per trovarmi ragazzi io ho un canale youtube piccolino ma sta crescendo piano piano ho deciso di fare questa esperienza per condividere questi miei doni diciamo che ho diciamo queste esperienze che ho maturato con altre persone quindi mi trovate mi si chiama Andrea Fasulo esattamente come come me originalità zero siamo ingegneri lo sappiamo non c'è da stupirsi e poi sono anche su LinkedIn mi trovate sempre lo stesso nome per chi di voi vuole contattarmi su Instagram contattatemi anche su Instagram diciamo fino a una certa capienza riesco a processare altrimenti con degli iscritti al mio Patreon che basa anche solo un euro si organizzano una chat Telegram dove fare continue domande creare magari un gruppetto di persone in cui sono sempre disponibile quindi questi sono i canali principali dove si può trovare un messaggio su LinkedIn non costa niente chiedermi la connessione senza problemi proprio qualsiasi tipo di domanda cerco sempre di rispondere poi se la mole argomenta ovviamente ci organizzeremo diversamente la chat Telegram è uno di questi di questi queste altre opzioni ecco perfetto allora Andrea veramente grazie ancora invito tutti quanti a iscriversi al suo canale e ricordatevi che dovete mettere i like nei video perché l'algoritmo YouTube lo richiede quindi quella è una cosa su cui dobbiamo puntare e grazie ancora del tuo tempo dell'aver condiviso tutte queste esperienze e delle informazioni molto strutturate e dettagliate che stai condividendo sul tuo canale e sicuramente avremo occasione di collaborare ancora più avanti quindi grazie a tutti per aver seguito il video fino adesso e ci sentiamo alla prossima ciao